Sicuramente la partita di domani sarà molto importante per noi uno e dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una partita di play-off, dobbiamo iniziare a giocare il nostro gioco che vogliamo portare anche più avanti nel post-season e sicuramente il nostro obiettivo adesso come adesso è prenderci uno dei primi due posti. Secondo me il nostro obiettivo principale è prendere il primo posto e andare al play-off come la squadra in testa della classifica. Il gioco è importante, il resto del gioco, con le 8 gioco resti, per noi vogliamo finire al top, quindi ogni punto è importante, no importa qualunque l'obiettivo è, quindi dobbiamo portare questo a Friday e continuare per il resto del settore. What do you expect from the game against Innsbruck? Innsbruck è un team che sta rilando questa settimana, ma i Foxes sono già potenti beatle 3 volte, quindi what do you expect tomorrow? They're a high offensive power team, they rely on that a lot, they've got a couple players that have been doing pretty well for this year, if you look at their team, they've got guys that kind of have been just scoring, and for us I think we're a very defensive structured team, so I think we can match that well, and just like the first three games we had against them, we'll just have to bring that same mentality to the fourth game.